Musica Questi applausi devono andare veramente molto 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 ad alto volume Perché di Stop Making Sense possiamo tornare anche a parlare di Scuola Perché è un film concerto che ha fatto letteralmente Scuola Ha cambiato nel 1984 la storia della musica al cinema Che appunto forse mai come in questo caso anche nel 2024 è il punto critico Parliamone bene Intensitutto che cos'è Stop Making Sense? È un film concerto di 1 ora e 29 Registrazione all'epoca realizzata da Jonathan Demme Che ti ricordi qualcosa? Qualche film? No, non barare Ma certo che baro, ma figlio che non mi ricordo Manco come mi chiamo io, figurati se mi devo ricordare È un premio Oscar per la migliore regia di un film che si chiama Il Silenzio degli Innocenti Ah, certo, certo Ma anche a... Ma scusa, a Filadelfia anche? Eh? Lui Quindi è sicuramente... Tra l'altro, Jonathan Demme adesso non c'è più È stato ripreso il materiale registrato appunto all'epoca E Stop Making Sense è la registrazione di una serie di concerti dei Tolkienettes Esattamente quello che vediamo è un po' la somma di diverse riprese Sempre nello stesso contesto Ma perché ha cambiato la storia della musica al cinema Anzi, del cinema concerto, chiamiamolo così Perché i Tolkienettes non erano una band qualsiasi Tu mi sa che stai vedendo, visto che la versione dell'84 è reperibile interamente su YouTube Sì, sì Un concerto che sembra in work in progress Beh, intanto io sono sconvolta dalle spalline di questa giacca Ma a parte questo Beh, sono comunque molto gli anni 80 Allora, 1984 La caratteristica in generale dei concerti dei Tolkienettes Soprattutto quanto salta, non possiamo dire questo Grandissima teatralità Sì David Byrne e compagni hanno, anche tuttora Io ho visto David Byrne 12 anni fa E comunque, nonostante gli anni che c'ha, come direbbe Corinna di Boris Continua ad essere un grillo Ma soprattutto essere un animale da concerto, da palco All'epoca, insieme al gruppo, appunto, dei Tolkienettes Portavano questo concerto veramente molto molto denso, molto popolato Anche se l'inizio del concerto non aveva nessuno sul palco O meglio, c'era David Byrne, una chitarra E un boombox Ma qualcuno ha pensato di rifare un film sui Tolkienettes con Cillian Murphy Ah, tu dici già fai della... Beh, dai Forse è troppo anziano adesso, Cillian Murphy rispetto a una cosa... Forse? No, perché stavo notando una certa somiglianza No, non trovi? Io trovo un po' Sicuramente dobbiamo far notare, appunto, la difficoltà tecnica Sì, sì Difficoltà tecnica, appunto, del saltare, zompare, girare, suonare e cantare contemporaneamente No, allora, lui che canti veramente correndo tutto il tempo Io non so con quale forza dei polmoni, veramente Cillian Murphy dovrebbe fare della preparazione atletica Ma in generale, tutto il concerto... Lo vedo portato anche Cillian Murphy Forse non troppo alla teatralità, diciamo, esagerata Lui è un po' più sopra Tutto il concerto, tra l'altro è quel concerto famoso del vestito con le grandissime spalline Esatto È stato portato in scena, tra l'altro anche in Italia Nel... In quel tour, tra l'altro, degli anni 80-84 esattamente E la data di uscita e registrazione del film Quindi più o meno, un pochino prima, un pochino dopo Sono passati anche in Italia Ma il concetto di base di questo tour, di questo concerto È che il palco si costruiva man mano che il concerto andava avanti E a livello proprio concettuale, sì Sì, sicuramente molto innovativo adesso Sì, sicuramente molto divertente da vedere Anche adesso Ma immaginatevi la densità di problemi che potevano scaturire Cioè, è praticamente un... Una messa in scena Un cavo che salta Una roba che si incastra Una ruota che si incastra Un... Un asse del... Del palcoscenico un po' più alzata E quando David Byrne inizia a correre intorno al gruppo Tra l'altro sono... Più di 12 persone sul palco Su diversi livelli Che ovviamente questi livelli arrivano piano piano Si inciampa... Pum! Incappa da una spallata a una delle due goriste Mentre balla Insomma, un concetto veramente assurdo Interessantissimo da vedere adesso Da studiare adesso Tanto che Ne arriva una nuova edizione Una nuova edizione rimasterizzata sicuramente Con i... Con la... La magnificenza del 4K Moderno Ma soprattutto Con la strumentazione odierna Si riesce a realizzare Un nuovo mix audio Diciamo anche che Questo evento ha portato E porterà una serie di Eventi collaterali Molto festaioli Perché ci saranno dei parties A tema praticamente Si chiamano proprio gli Stop Making Sense Party E uno sarà già domani A domani Se state ascoltando In questo spazio tempo A Milano Esatto Il 24 ottobre Che aprirà appunto il tour Che farà Tappani club E teatli italiani Come funzionerà Sarebbe interessante Capirlo Potete andare sul sito di Nexo Digital Che tra l'altro È la stessa realtà Che porterà Stop Making Sense Questo Stop Making Sense In... Al cinema Al cinema In alcuni cinema Come abbiamo già fatto vedere in passato Anche Stop Making Sense Verrà proiettato al cinema Esattamente l'11 e 12 novembre Se non sbaglio In 11, 12 e 13 novembre In alcuni cinema Selezionati Forse Anzi Scrivetecelo O in diretta adesso Oppure nei commenti di questo Della registrazione Di video di questo Di questa recensione Oppure fateci sapere Se volete Organizzare una Una nuova proiezione Di Stop Making Sense Insieme In un cinema A portale di mano Sicuramente vale molto 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 la pena Perché Appunto L'11, 12 e 13 Di novembre Il film Finalmente arriva In questa forma Nella forma Che la A24 ha prodotto Ma soprattutto Jerry Harrison Che è il tastierista E chitarrista Dei Tolkienettes Ha curato a livello di audio Perché Dicevamo Non è la stesso Non è neanche lo stesso Montaggio video Ci sono cose diverse Ma Ci sono scene anche Che erano state tagliate Se ho capito bene Cose Minime Perché appunto Il minutaggio È similare Il concerto È lo stesso Il girato È lo stesso Ma il montaggio Un montaggio Moderno Permette Uno Il mix audio Innanzitutto È pensato Per un Un ascolto In sala Quindi è in Dolby Atmos Ma soprattutto Ha disposto I suoni Intorno Allo spettatore Non soltanto Pensati per una Visione frontale Un visione E ascolto Frontale Mentre E tra l'altro Questo è un effetto Che vi garantisco Ho esperito Sulla mia pelle Perché la proiezione A cui ho assistito Era veramente difficile Trovare Scoprire Anche capire Se l'applauso Veniva Da noi Vivi O dai registrati Dal pubblico Registrato Era molto difficile Stare seduti E non Unirsi Al concerto Non Primariamente Per il Mix audio Del concerto Ma proprio Per il concerto Stesso Che è veramente Un turbine In ascesa Dopo sentiremo La celeberrima Burning down the house Che è letteralmente La La rappresentazione Di com'è In progressione Questo spettacolo Però Dicevamo Che ci sono stati Anche Delle aggiunte Perché Il concetto È stato Innanzitutto Dovevano trovare Le bobine Cioè Il filmato Dove sta La registrazione La pellicola Proprio È stata un po' Una caccia al tesoro Vincendo Questa caccia al tesoro Hanno anche trovato Del materiale in più Ripeto Nulla di sconvolgente Però certe cose Permetto Certi ritagli Certi Un nuovo montaggio Banalmente Ha permesso Come per la fruizione In Dolby Atmos Anche di vedere Cose in più Per esempio C'è Un momento In cui il tastierista Il tastierista ufficiale Non Jerry Harrison Quello proprio Assoldato Per la Per il concerto Sarebbe molto interessante Sapere il nome e cognome Ma Non l'ho Portata di mano Però c'è un'interazione Sguardi Tra il palco Appunto Visto che il concerto Era in composizione Anzi no Il concerto Era molto Composto E anche molto Scritto Molto architettato Ma il palco Era appunto In divenire E ci sono certi Sguardi D'intesa Ma anche Delle dinamiche Che in questa nuova In questo nuovo montaggio Sono molto più chiare Come sono chiare Le immagini Rimasterizzate In 4k Quindi comunque È un Un bel Un bellissimo Spettacolo Per gli occhi Dicevo che La 24 Aveva annunciato Ma anche i Tolkien Hats Avevano annunciato Un anno e mezzo fa L'inizio di questa Avventura O meglio L'arrivo di questo Prodotto Cioè è voluto Un pochino di tempo Addirittura La 24 Forse per tamponare Eventuali ritardi Perché è stato Veramente molto complicato E anche molto articolato Il progetto Anzi Il processo Bernie Worrell Sì Credo Il processo Di post-produzione Di questo Questa nuova edizione Però il risultato Ah dicevo La 24 ha prodotto Anche un discutibile Disco di cover Di Stop Making Sense Con Miley Cyrus Pyramore E altre persone coinvolte L'abbiamo sentito anche Con dei risultati Altalenanti Relativi Discutibile Discutibile Sicuramente La cosa che vi posso Caldissimamente E anche dopo averlo visto Garantire E Consigliare È la visione Di Stop Making Sense In In assoluto Sicuramente La fruizione In In Al cinema Risplende Di queste caratteristiche Ma non soltanto Sappiate che se decideste Di partecipare Invece Ai Party Anche lì Per l'ha ovviamente Mostrato il film E dopo ci sarà Una sorta di Dancefloor Anni 80 Se ho capito bene Sì Luca De Gennaro Se non sbaglio È convolto A Milano sì Poi non so se anche Nell'altra data Che per ora Risulta essere Cesena Per cui non so se Poi ce ne saranno Anche altre Forse sì Sbucheranno fuori E Quindi un approfondimento Ovviamente Sempre anche con Con Gianni Harrison Presente Se ho capito Si fa il giro Ebbè È venuto a Roma Per presentarlo Alla festa del cinema Esatto E niente Questo è Quello Insomma L'esperienza L'experience Stop making sense Dall'11 11 12 13 Novembre Al cinema Quindi stiamo già Lavorando in anticipo Ve lo stiamo dicendo In anticipo Se volete appunto Ripeto Fateci sapere Se volete organizzare Una Una proiezione Tutti insieme Banalmente possiamo Vederci anche In un determinato cinema In un determinato Un determinato spettacolo E ce lo vediamo Semplicemente insieme Il La fruzione Dicevo al cinema È veramente Molto 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 Coinvolgente Sarà difficile Tenere e stare Seduti Seduti e sedute Sulle nostre poltrone Quindi Come annunciato Vi faccio sentire Anche per chi Non ha idea Di cosa Possa essere Questo Questo concerto Tra l'altro Dicevano Alla La presentazione Che l'idea Di questo Concerto Composto Sul nascere Ha anche Delle ispirazioni Dal teatro Del no Perché I talking heads Prima dell'84 Avevano sicuramente Girato moltissimo Ma Un po' Erano anche Il gruppo Acculturato Del punk Degli anni Ottanta Ma Appunto Erano sicuramente Persone Molto Curiosi David Byrne Che sicuramente È un Personaggio Che con il controllo E con la Regia Ci Ci teneva Moltissimo Mettiamola così Non deve essere Stato proprio Un tranquillone Lavorare Non tranquillissimo A lavorarci Però I risultati Sono questi E aveva preso Ispirazione Per questo Spettacolo Componibile Ripeto Dal teatro Del no Giapponese Ma Come detto Burning Down The House Forse Ha la Caratteristica Migliore Per rappresentare Quanto può essere Travolgente Questo spettacolo Questo Stop Making Sense Che ho apprezzato Moltissimo È forse Il film più bello Che ho visto Quest'anno Che ho apprezzato 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 Grazie a tutti